Ah si, questo è pop, però c'è questo pop, rispetto ad altre macchine, penso lo scherco. E di solito il bianco? Il bianco è nero, però è bella perchè è un bianco classico. Passa a metterla che vuole non fare, ma io metto la plastica, che è la più buona. Alla fine dico, la uso poco. Se fosse la più buona, poi il problema è che... Sei figliolo? Si. Mi amavamo praticamente anche a Leopold non c'erano, a guardarle di tutti gli iniettori completamente. Infatti la macchina non teneva al miglio. Mi dubitando andava sui vuoti, perchè c'erano iniettori sporchi. E' preso. Vabbè però alla fine siamo andati in Marti. C'erano la reposizionata? Si. Quando ci viene la reposizionata stanno toccando completamente. Si. Cala un po' molto? Si, si, mi da fastidio. Ovviamente mi da fastidio. Vabbè. E' affezionato? Si. Lo hai dopo. Ha provato qualcuno o nessuno mai? No, mio papà mi l'ho fatto provare. C'è una. Beh diciamo che la vengo a 53 mila. Io se questa qui ti l'ho pagata 48, se la propongo a qualcuno a 50, non me la prende. Io ci vado in a 55 mila. Si, non sono indottini. Però comunque è la proposta. Quindi è la proposta. No, è la proposta. Si. Se vuoi quel pezzo di uno ti arrivi a tutto. No, però non ti consigliamo. Ah, vieni. No, perché se l'altro si non li dividi. Perchè se l'altro si non riadirà a dire il mio corpo. Si. Se 응a alla mostra la frontunda la fine, si va più. Só assalti, no. Se non ti conosca la frontuna. Si ti chiamai ArkadLeodgetti... Ma quello dove sarà il desertore wouldiam si Makes sense of me gar смотрите. in questo momento grazie a tutti